Salve a tutti siamo qui al Romino e Matteo il nuovo sito che troverete anche qua di video e vi leggo la mizia sempre in straniero, in inglese. Mokhtar Ali Sad Mamhod, 33 anni in Brahim Abubdila, 23 anni in Parc di Libia, in un paese di sovieti, 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 dopo averlo una brutale salta del nubile vicino a Campidget Park, dopo averlo in barrax senza permissione, per continuare a livello di 300 libri di Trines, stazione di Bassingoburn, nel Cambridge, quando avevano l'ultimo ottobre. Questa è la notizia. come a prima notizia di questo nuovo canale e niente, arrivederci al prossimo